Senatore Rufa, parliamo di un disegno di legge molto importante contro le aggressioni agli operatori sanitari e lei è stato uno dei protagonisti appunto di questo disegno di legge. Sì, una necessità nelle strutture sociosanitarie, la riconoscenza delle persone che lavorano e mettono in gioco la loro vita per salvare le vite, non è giusto che appunto vengano offesi, malmenati e maltrattati. Quindi c'è stata discussione, peraltro una discussione molto costruttiva nella Commissione Sanità condivisa e alla fine si è arrivato ad un inasprimento delle pene proprio a dar ragione di quello che è un ruolo importante che le persone svolgono nelle strutture sanitarie e un inasprimento dovuto a propria riconoscenza di tale. A breve entrerà la discussione in aula, non penso questa settimana ma la prossima che verrà e quindi ecco un riconoscimento alle persone che lavorano e che nell'ambito del proprio lavoro ci danno aiuto in termini appunto medico e sanitario. Dopodiché abbiamo anche inserito appunto un osservatorio in grado di andare a valutare quelle che sono le percentuali che in questi ultimi anni sono ricorrenti per andare appunto a controllare e eventualmente a cercare anche un ulteriore rimedio a quelle che sono le violenze che vengono subite dalle strutture sociosanitarie. Ecco si aspetta che nella discussione in aula e in Senato ci saranno ulteriori modifiche? Non penso perché insomma è abbastanza completo il disegno di legge quindi si spera che si arriva subito alla definizione. Anche perché alcuni degli emendamenti un po' rispecchiano quelle che sono stati anche delle proposte dell'opposizione, ricordo il disegno di legge Siani ma anche Rostanne, quindi c'è anche condivisione da parte dell'opposizione? Assolutamente è un merito questo della Commissione Sanità, io dico sempre che con l'opposizione quando hai una buona opposizione riesci a fare un buon governo e questa è una considerazione in Commissione Sanità. L'importante è che questo governo l'abbia portato in aula e che si voti appunto.